ciao raga benvenuti in questo nuovo video allora questa mattina stiamo per uscire portiamo gabriele alla mostra d'oltremare per chi non sapesse cos'è è un parco bellissimo è molto grande dove spesso portiamo gabriele quindi niente spero che il video vi piaccia e che lo continuate a guardare a dopo un po' è freddo in un po' è freddo in un po' è freddo in un po' è freddo come si è freddo e non è freddo e non è freddo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Gabbri, che stai facendo? Gabbri, che stai facendo? Gabbri, che stai facendo? Gabbri, che stai facendo? Gabbri. Gabbri, che stai facendo? 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 Che stai facendo? Gabbri, che stai facendo? Gabbri, che stai facendo? Gabbri! Gabbri, che stai facendo? Gabbri, che stai facendo? Gabbri, che stai facendo?